Droga, armi, racket, dalla periferia al centro, Roma e sempre di più, il teatro delle scorribande di piccoli e grandi criminali. Uno spaccio a ciclo continuo, coperto da vedette e pali, che facevano il turno 24 ore su 24. Affari d'oro per Vincenzo Anastasi, il principe, il capo indiscusso di un'organizzazione che a Torbella Monaca, periferia est della capitale, con la cocaina, l'ascisce e la marijuana, riusciva a tirare su oltre 200 mila euro al mese. Con lui sono state arrestate altre 19 persone in una delle più grandi operazioni antidroga, vista a Roma negli ultimi anni e condotta dai carabinieri del comando provinciale. Per la prima volta a fornire informazioni importanti, oltre a quelle reperite attraverso gli appostamenti, le intercettazioni e i pedinamenti, anche due collaboratori di giustizia, che hanno avuto un ruolo fondamentale nelle indagini culminate con i fermi di questa mattina. Dal mondo di mezzo di carminati e buzzi alle inchieste che hanno inchiodato i Casamonica e i clan di Ostia, dalla droga che gira a fiumi nelle piazze di spaccio della periferia e del centro, fino ai ragazzi che giocano a fare i gangster e che sparano, che uccidono, come nel caso di Luca Sacchi. Scene da far west che si ripetono a un ritmo preoccupante, come quella di ieri avvenuta a Corso Francia, viale che divide due dei quartieri più signorili della città. Due banditi, ladri di orologi e gioielli, che in moto non si fermano all'alte della polizia, che spara in aria. Scatta un inseguimento che termina con lo schianto della moto. I due vengono arrestati, quattro agenti rimangono lievemente feriti. Tutto questo davanti agli occhi increduli di decine e decine di persone.